Abiceglia, il preside Pasquale di Luzio, era un appassionato cultore di musica popolare che con la chitarra accompagnava ad orecchio, non essendo egli un musicista. Un suo nipote registrò i pezzi suonati e cantati dal nonno per poter un giorno trascriverli in musica. Tutto questo è avvenuto a Palazzo Tuputi, Abiceglia, è stato presentato nei giorni scorsi il libro Pasquale di Luzio e la musica popolare pugliese, edito dal Centro Studi Piscelliese. Ancora un volume, ancora una pubblicazione da parte del Centro Studi Piscelliese che ricorda la figura di una persona che ha dato davvero tanto alla cultura della città, soprattutto in ambito musicale. Un libro importante per una persona fondamentale nella storia culturale della città, perciò è stato chiesto di fare questo libro al meglio che si potesse fare. Il maestro Domingo D'Amato, grande non soltanto musicista ma anche storica della musica. Lei soltanto poteva compilare un libro dedicato a un personaggio di primissimo piano della nostra città. Che cosa ha rappresentato per Biceglia? Il prestito di ultimo ha rappresentato molte cose. Una persona di grande cultura, l'intelligenza del tempo. Negli anni 20, 30, 40 è stata l'intelligenza di questa città. Un personaggio di primo piano che ha spaziato dalla letteratura allo sport, un sport pionieristico, fino alla musica. Un personaggio importante. Un personaggio ma anche una persona. Chi era suo padre? Mio padre era una persona molto sensibile, affettuosa. In famiglia noi eravamo tre bambine, ci metteva sulle sue gambe e ci portava in giro per il mondo. Adesso arriviamo a Milano, arriviamo a Parigi, arriviamo con noi e era delizioso. Poi quando siamo cresciute naturalmente è stato un po' più severo perché ci teneva molto che noi studiassimo, ci laureassimo. Ma infatti noi siamo tre sorelle e un fratello e siamo tutti laureati, tutti. E lui era molto orgoglioso di questo. Ecco, ma dal punto di vista umano che cosa ha lasciato alla famiglia? Beh, papà è un padre affettuoso, molto attento alla famiglia, innamorato di sua moglie, delle sue bambine. Perché noi eravamo sempre le sue bambine. Anche quando eravamo sposati, avevamo i figli, lui diceva a mia madre, sono arrivate le bambine.